Godetevi le stupende caratteristiche di questa bellissima casa presentata da Berry Plant. Si presenta una grande opportunità perché questa grandiosa casa diventi tua. La casa vanta gradevole e confortevole soggiorno per la vostra famiglia. Ampie camere da letto che vi farà sentire comodi e rilassati. Fate un passo fuori alla zona dell'intrattenimento, perfetto per un barbecue estivo. Non aspettate! Chiamate la gente oggi!